La mobilitazione a difesa dell'ospedale Tricona di Noto è finita con l'aggressione del direttore sanitario. Il territorio di Noto si mobilita in piazza per difendere il diritto alla salute sempre più umiliato e offeso, come è stato gridato durante il corteo che ha sfilato per le vie della città. Il rimattino è partito alle 9.30 da piazza Municipio, sede del comune, ha attraversato Corso Vittorio Manuele, le vie 20 Settembre, Antonio e Sofia, Principe Umberto, via Dei Mille, prima di fermarsi alle 11 in punto davanti all'ospedale Tricona. La vicenda, come è noto, ruota attorno alle disposizioni regionali che puntano a riqualificare la sanità in provincia, con al centro del dibattito l'ospedale di Contrada San Giovanni Lardia, che con la nuova rete ospedaliera a seguito del trasferimento al Di Maria di Avola di alcuni reparti verrebbe penalizzato. A tenere banco e riaccendere alla polemica anche il temporaneo spostamento da noto all'ospedale di Siracusa dei reparti di ginecologia, pediatria e neonatologia, determinato, come ribadito dall'Asp, dall'imprevista carenza di medici pediatri. In testa al corteo il sindaco Corrado Bonfanti con i suoi assessori, il presidente dell'assisa municipale Veronica Pennavarie e tanti consiglieri comunali. La gente, chiamata a dare un chiaro e forte segnale, non vuole sentire ragioni. Piuttosto che svuotare l'ospedale, occorre potenziarlo e destinare maggiore e più qualificata assistenza alle popolazioni di questo esteso territorio. Momenti di tensione sono registrati quando, al termine del corteo e del concentramento davanti all'ingresso del trigona, la discussione si è spostata all'interno dell'aula magna del presidio. Ad essere preso di mira il direttore sanitario del trigona, Rosario Di Lorenzo. Il medico, fatto oggetto di aggressione, è arrivata la solidarietà della FIAL Sicilia, dei colleghi e del direttore sanitario dell'Asp, Anselmo Madeddu, che a nome della classe medica ha espresso indignazione per quanto è successo. Madeddu ha annunciato che l'ordine dei medici e l'Asp non esiteranno a dire le vie legali se emergessero profili di responsabilità penale. Grazie. Grazie.